E poi abbiamo la portavoce di una lista elettorale che si chiama Potere al Popolo. Vediamo Viola. Sentiamo Viola, voi siete stati tra l'altro i primi che siete andati invece... Siamo stati gli unici. Gli unici a trovare i feriti. Io credo che sei persone che sono state ferite in un attentato terroristico, perché se fosse stato a rovescio l'avremmo chiamato così, cioè se una persona extracomunitaria, se una persona musulmana avesse fatto quello che ha fatto Traini a Macerata, penso che l'avremmo chiamato così. Noi siamo gli unici a essere andati in ospedale, nessuna persona di nessun'altra forza politica c'è andato. Ma non è l'azienda che deve risolvere questi problemi. Dentro l'azienda. No, no, ma non è l'azienda perché se noi diamo autonomia al privato, il privato vuole fare profitto e quindi giustamente ci tratta da schiavi. Invece sono le regole della politica che devono dare... Ci sono dei modelli di partecipazione all'azienda, come sai, no? Ma certamente il problema è la politica, perché se il Jobs Act introduce il controllo a distanza, poi non c'è nessuno stupore che Amazon proponga il braccialetto per controllare. Beh, l'avrebbero introdotto a prescindere, credo, perché sai, Amazon... Ma le regole le fa la politica, non le possono fare le aziende, le regole. Le regole vogliono soltanto... Procede per conto suo. No, si sono fatti loro da sui la legge, E' come l'ho già visto che dico no, però non va bene. Voi sperate, avete concrete possibilità, secondo lei, di entrare in Parlamento? Sicuramente. Sicuramente. Sì, perché nei sondaggi non siamo ancora, diciamo, mancati. Eh, esatto. Non abbiamo una lira, quindi non li possiamo commissionare. Ma noi sicuramente... E qual è che sarebbe la prima cosa che assolutamente volete fare se entrate in Parlamento? Allora, posso dirne tre, perché ce ne ho tre. Però rapidamente è che devo darle linea. Allora, lavoro stabile, sicuro, abolizione Fornero e Jobs Act. Le pensioni vanno adeguate al costo della vita, è difesa dell'ambiente, no grandi opere messe in sicurezza ai territori. Anche lì poi bisognerebbe spiegare bene con quali soldi, perché nessuno ce l'ha spiegato. Se ne avremo mai il tempo, lo faremo. Certo, no, no, ma lo avrete. Se ne avremo mai il tempo, lo faremo. Certo, no, no, ma lo avrete. Certo, no, no, ma lo avrete. Certo, no, no, ma lo avrete. Certo, no, ma lo avrete.